abbiamo rimontato diciamo la nostra simulazione la nostra casa si adesso che cosa andiamo a fare quindi per migliorare il problema andiamo ad aggiungere degli elementi che connettono le pareti con il solaio in modo che diventa un corpo unico ok come si fa tradizionalmente si usano dei ferri come questo qui ferri da cantiere certo piegati e messi all'interno della muratura di satino con la resina messi in questo modo qui e poi viene fatto viene fatto il collegamento ma questo comunque lo vediamo anche dopo torniamo la nostra casetta andiamo ad inserire dei connettori quindi anzi dei fissaggi che mi vanno a bloccare le pareti intorno al solaio vediamo che succede adesso abbiamo in qualche modo bloccato le pareti con il solaio l'abbiamo connesso vediamo se abbiamo miglioriamo chiaro miglioramento è notevole quindi abbiamo raggiunto il nostro scopo ora è chiaro che questo ragionamento qui va fatto a monte da un progettista che possiamo domani mattina andare a mettere dei ferri no e connettere il tutto certo qualcosa andremo a migliorare però c'è dietro tutto uno studio che va fatto da un progettista che è il progettista del cliente noi come fish che facciamo diamo una mano al cliente al progettista stesso